Il festival presenta Fermo! Non ti torcerò neanche un capello! 007 Licenza di Tupè Bella cagata, bella cagata Complimenti Questo è bellissimo Allora Sveva Allora Sveva Allora Sveva Allora Sveva Mario 39 anni, assolto dall'accusa di violenza. Carlo, 43 anni, assolto dall'accusa di sfruttamento. Guido, 51 anni, assolto dall'accusa di abuso sessuale. Kim, 8 anni, colpevole di innocenza. Nel sud del mondo, milioni di bambini sono condannati a subire ogni genere di abuso. Il CHI, Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, si batte perché riacquistino i loro diritti. Per batterti con noi, telefona all'848-848-841. Il CHI, Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, si batte perché riacquistino i loro diritti.